allora buongiorno ci ritroviamo oggi sindi insieme buongiorno lunedì di pasquetta piovoso qui a new york com'è il tempo lì a padova giustamente siamo in casa sole alto così mi piace quindi dovrai goderti il sole anche oggi dal terrazzo per i prossimi penso non so mesi credo speriamo di no che finisca presto questa reclusione senti sindi oggi abbiamo un ospite molto importante e presentacelo e poi cominciamo a scoprire questa new entry nel nostro piccolo show e scopriamo anche di cosa si occupa bene visto che lascio a me questo onore mi permette intanto di fargli la domanda base nome e cognome e di dove sei ciao a tutti ciao max grazie grazie per questa opportunità ciao sindi io sono paolo ghi ringhelli conosciuto come due cilindri sono di milano adesso mi trovo a milano saluto tutti bene e da quando nasce la tua passione per le moto in particolare per le sport allora io non ho una storia se ci sono quelli che raccontano fin da piccolo mio papà oppure quelli che raccontano più o meno quasi tutti avevo il naso schiacciato sulle vetrine di numero uno ecco io no io ho avuto una grande passione nella vita che era la musica e poi casualmente mi sono ritrovato a innamorarmi di una moto specifica che anche se ho avuto altre moto delle sportive del 1883 mi sono innamorato causalmente provandola vedendola in al mio fianco in ad un semaforo e da lì è partito tutto l'ho provata l'ho comprata no basta poi da allora è stato amore a prima vista io amo le sposter e solo dopo avevamo le harley davidson se non ci fosse stato modello sposter credo che non avrei non mi sarei orientato su questo marchio mi spiace ma quindi paolo paolo innanzitutto abbiamo scoperto il tuo il tuo vero nome chi è il volto dietro a due cilindri blog e abbiamo anche già scoperto che sei un fanatico super appassionato delle sportster quindi diciamo chiederti il perché che era la nostra idea una delle idee principali chiederti il perché dello sportster forse è un po' stupido ma c'è qualcosa che ti attrae in particolare a parte la storia parte l'estetica trovo che sia la moto a misura d'uomo nel senso che io vivo in italia mi piace fare i giri nelle colline sul lago quindi secondo me una moto 800 1200 è una moto più che sufficiente per divertirsi non sono uno che vi viaggia in coppia sono uno che al massimo va al facer o va a san tropez e vado con la mia 1883 tutta originale degli anni 90 o una moto iniezione sempre una sposta una r fatta un po' flat track o una buona m2 ciclone quindi motorizzata sposta è la mia è la sintesi perfetta per quanto mi riguarda molto deve essere un po snella anche se le nostre possono pesanti però io il concetto di dire lo spostere la entry level no non mi piace non è non è il punto di partenza personalmente il punto d'arrivo e per me per moltissimi altri e poi è una moto che si presta a qualsiasi tipo di preparazione ecco che è un aspetto importante anche oggi farsi la moto personalizzata la sposter è l'ideale poi è vero che ci sono molti che partono dalla sposter per perché quello quello che si possono permettere però soltanto per arley davidson è l'entry level non c'è nessun'altra casa che ti dice parti da quella per arrivare a quell'altra quindi io la trovo più una strategia che è una che una vera motivazione chiaro senti paolo allora io e sindy avevamo preparato una serie di domande per andare a scavare un po di più sul fatto di capire chi è paolo allora sindy siamo pronti parto con la mia prima domanda e cerchiamo di capire chi è paolo che è pronto a schiacciare il pulsante allora paolo il progetto due cilindri che ce l'ha iscritto in caratteri abbastanza grandi sulla tua maglietta quindi è una cosa molto importante spiegaci cos'è per favore allora è un blog io ho iniziato a siccome mi piaceva a me piace il contatto con le persone mi piace scrivere ho sempre amato molto scrivere ero al liceo ero più bravo in italiano che in matematica quindi mi è sempre piaciuto molto e nel dopo aver preso l'arley dopo qualche anno ho iniziato a vedere dall'america i primi siti i primi blog che erano questi diari e allora nel 2009 ho così ho provato a fare un mio blog nome mi era mi è venuto questo questo due cilindri che poi non è nulla di particolare e tutti i giorni tutti i giorni mettevo non so poste di preparazioni accessori ma anche tutte le modifiche fatte la mia moto io ho questa moto del 2007 iniezione fatta un po short short track che è carina nulla di esagerato e radicale ma una moto che che mi piace che insomma era come l'avevo in mente e piano 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 ho iniziato ad avere degli scontri di gente che mi scriveva gente che mi mandava le foto della propria moto e sono 10 anni la cosa che non ho mai smesso tutti i giorni un post quindi come la goccia cinese no tutti i giorni infatti ci sono oltre 5 mila post 40 mila commenti 3 milioni di views poi nel tempo sai sono stati fuori tanti la pagina instagram la pagina facebook il mio è un blog scritto quindi io scrivo sostanzialmente contenuti o li faccio io quando vado agli eventi o mi arrivano dai lettori o li trovo in rete e poi ovviamente ho dovuto fare anche le pagine social come con l'ario come gancio quindi il blog piano piano è cresciuto e cresciuto ed è una passione ovviamente io non ho mai voluto metterci dentro banner pubblicitari no questa è la mia passione quando mi stufo se mai mi stuferò non voglio avere legami con nessuno e comunque l'anno scorso abbiamo fatto fatto 10 decimo anniversario sostanzialmente certo prima di lasciare a sin di è la prossima domanda volevo solo apriti una pari aprire una parentesi scusami e dirti che anch'io nel mio piccolo ho cominciato a scrivere qualcosa ma ho cominciato non perché volevo creare un blog vero e proprio ma perché avevo il piacere di condividere le mie esperienze con altre persone quindi raccontare come detto te alcuni dei miei viaggi e alcune delle mie idee su parti e ricambi ma ti ripeto nasce soprattutto l'idea di questo blog che ho cominciato per solo per condividere anch'io sposo dalla tua stessa filosofia poi chiaramente tu sei cresciuto e ha cominciato a diventare una cosa più impegnativa ma è la filosofia iniziale di cominciare a condividere quello che che senti quello che provi quello che ti piace con altri utenti io sono d'accordo max è anche un'attitudine personale io ho amici che vanno in moto gli piace io rispetto ad altri non so se uno mi scrive gli rispondo se incontro una persona che legge il blog fuori dalla concessionaria mi metto a parlare perché mi piace no ci sono amici che mi dicono parlano come fai ad arretta è una questione anche di caratteri no una questione di peculiarità personale sostanzialmente quindi c'è anche di quell'aspetto allora sappiamo che sei a capo dello sport meeting ed essendo appunto una manifestazione di una certa portata penso tu non sia solo ma in uno stato ben organizzato ci dici da chi è composto allora nel 2016 abbiamo organizzato abbiamo deciso di organizzare questo evento dedicato alle sposter e ovviamente non posso far tutto da solo io mi occupo sostanzialmente della promozione della comunicazione di invitare le persone di gestire un contatti però siamo un direttivo siamo un gruppo di appassionati al mio fianco da dal 2016 c'è iuri receconi che ho un altro grande appassionato che è stato l'unico il persona che mi ha dato la spinta noi prima facevamo dei run quindi lo sposter run poi era diventato un po insomma 100 moto 130 moto iniziava diventare un po sostanzioso un po anche pericoloso ha deciso di trasformarlo in evento statico e lui è stata la persona che ha detto dai paolo proviamoci facciamolo insomma io ho bisogno di qualcuno che fosse al mio fianco oltre a lui abbiamo la fortuna di avere un amico storico che il mio consigliere segreto che alfonso ciasullo poi massimo gasparetto carlo berrani strema insomma siamo un gruppo di tutta la logistica viene gestita da 20 30 volontari che aiutano al parcheggio c'è chi gestisce un po il contest quindi siamo più persone sostanzialmente ecco poi lo stand a verona ce l'ha preparato gattano pavesi che è un altro appassionato steve giuliano giuliani che lettore della prima ora insomma ne dimentico sono tanti sono tanti ecco bene bene sindy vai pure con un'altra domanda e poi io parlo un altro bene allora intanto magari interessante anche sapere a che edizione sei arrivato della dell'evento di questo evento qui allora siamo arrivati però abbiamo fatto due run e poi abbiamo iniziato nel 2016 la cosa quindi questa è la quinta edizione compiamo cinque anni la cosa carina è che ogni edizione quindi ogni logo dell'edizione è una reinterpretazione di una storica decal quindi questa qua è una decal rivista del è una decal dei primi anni 90 il primo anno avevamo fatto la decal numero 5 rivista poi abbiamo fatto una decal quella alata insomma ogni anno reinterpretiamo una decal quindi quest'anno siamo alla quinta edizione wow fantastico davvero davvero un successo forse forse arriviamo arriviamo anche lì adesso adesso arriviamo anche lì anzi guarda allora la domanda una delle domande principali è dato dove si svolge esattamente lo sport meeting e poi arriviamo anche a quello che stavi per dire sì allora abbiamo fatto due edizioni vicino a como in un'antica fonte stupenda quindi immerso in un bosco molto molto bello poi lì ha avuto insomma non abbiamo potuto più presenziare lì e abbiamo avuto la fortuna di conoscere max brun che era il socio con cui carlo talamo aprì la numero uno milano quindi con lui che sdoganò il culto delle arley davidson italia max brun che c'è la possibilità di avere da 32 da due edizioni graziano visconti che è un borgo medievale stupendo bellissimo che ben si presta questo a questo evento in provincia di piacenza quindi anche più centralmente e logisticamente perfetto quindi graziano visconti la risposta è graziano visconti ma alcune foto è davvero è davvero è davvero particolare linea la sindi prego bene mi ero dimenticata prima di farti una domanda ma il tuo evento è aperto a tutti i tipi di a tutti i tipi di moto di arley oppure solo alle appunto alle sport alle sport il nostro evento è dedicato alle sposter perché tantissimi abbiamo un esempio max tantissimi hanno avuto lo sposter magari hanno lo sposter e altre le altre e altre moto quindi lo sposter è una moto che mette un po tutti d'accordo sicuramente quindi noi facciamo entrare nel borgo solo le sposter e tutte le sposter gli facciamo una foto ricordo una foto banner quindi tutti quelli che arrivano percorrono un tappeto rosso tipo in stile olivodiano e poi facciamo una foto fatta da un fotografo roberto merlo che è un bravissimo fotografo genovese per tutti gli altri modelli c'è un parcheggio appena appena fuori quindi proprio a 5 metri un parcheggio custodito quindi se tu arrivi mettiamo vabbè il caso max non vale perché è famoso quindi magari è però se uno arriva col tuning parcheggio dedicato e poi può entrare ovviamente e quindi nel borgo è giusto comunque questa cosa altrimenti non avrebbe perderebbe un po smagherebbe un po lo chiamavamo sposter e tutto il resto meeting ecco perché perché di eventi ce ne sono tantissimi e tantissimi sono bellissimi la particolarità è proprio del nostro è il fatto che sia dedicato alle sposter un po come il blog che parla un po di tutto però quando parla di moto parla di sposta allora una cosa importantissima sindi per me visto che ti stai avvicinando un po a questo mondo dei motori e innanzitutto paolo a me piace tantissimo visitare i raduni e internazionali nel senso cerco di fare tutti i raduni europei durante l'anno ma arriveremo a parlare anche di questo tra poco visto che è un disastro e chiaramente sindi per noi è importante anche il customer service quindi come noi siamo trattati quando partecipiamo i raduni quindi avere degli stand gastronomici avere dei posti dove prendere una birra tutti insieme e la domanda a cui voglio arrivare è paolo come si svolge a livello stand gastronomici attrazioni chiaramente lo sport imitivo allora noi abbiamo la fortuna di essere nel piacentino quindi è una terra famosissima per i prodotti gastronomici e per prodotti insomma i vini ecco all'interno di grazzano c'è anche un birrificio che ex fabbrica che collabora con noi quindi a uno stand solo di birra che una birra artigianale veramente di primo livello all'interno di grazzano ci sono dei ristoranti con cui abbiamo delle convenzioni e abbiamo la fortuna di avere la prologo che gestisce con tutti i piatti tipici per un per chi volesse hamburger insomma robe un pochino più easy ecco bene bene quindi insomma non si muore di fame non si muore di sete allora con la situazione che stiamo vivendo chiaramente sono stati annullati moltissimi eventi biker nazionali e internazionali fino almeno a luglio 2020 pensi siano state delle scelte un po affrettate da parte delle organizzazioni oppure no 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 allora credo che abbiano fatto bene sostanzialmente nel senso che hanno annullato l'evento di san tropez l'evento di port rose parlando di raduni che noi conosciamo altri eventi tipo puntabagna oppure l'evento dire calmuto che si tiene in sicilia sono ancora confermati credo che la discriminante sia alla portata dell'evento un evento come quello francese è giusto che sia stato annullato anche perché coinvolge decine di migliaia di persone alberghi insomma tutto tutto il territorio circostante per quanto ci riguarda noi siamo trovati qualche settimana fa siamo posti la domanda cosa facciamo ci fermiamo ci arrendiamo e siamo un evento snello che si può permettere il lusso di rischiare e nostro vuole essere anche un messaggio di speranza nel senso che noi possiamo anche decidere poche settimane prima di annullare quindi ci proviamo speriamo di no speriamo di no e nel caso annulleremo sì anche perché guarda che io ho già organizzato consigli di arrivare con la nostra corazzata e fare un sporti meeting perché ci teniamo davvero tanto a partecipare quest'anno assolutamente ripetiamo se si potrà fare e se ci saranno le condizioni migliori per tutti però la tua risposta è stata molto importante perché a volte è interessante capire come come delle persone portino avanti il progetto con ancora un po di punti di domanda perché sappiamo la situazione attuale quindi infatti ci tengo a dire che noi non siamo dei matti che vivono fuori dal mondo sappiamo bene che sarà difficile poter mettere in scena il nostro evento però cosa abbiamo fatto ci siamo presi dei rischi addirittura noi abbiamo proposto a tutti i nostri partner abbiamo proposto mi ha fatto una proposta semplice che abbiamo detto se il meeting si fa bene se non si fa considereremo tutti i vostri contributi che sono servizi qualcuno da anche un contributo economico irrisorio ovviamente per l'anno prossimo quindi loro non rischiano niente al massimo rischiamo noi ma il nostro è è un un hop è un testo ha risposto a una domanda senza che andassi proprio a chiedertela in maniera più cattiva senti paolo e se andasse in porto e me lo auguro ancora una volta la se porti in scena diciamo questo sporti meeting quest'anno cosa ti aspetti il tuo desiderio più grande allora io sono sempre partito con non ho mai sognato in grande per me fin dalla prima edizione l'importante era riuscire a convogliare degli appassionati no il fatto che la gente andasse via con un sorriso quindi un momento di aggregazione è un momento di culto verso questa motocicletta quindi l'obiettivo è che arrivino un po di persone in più rispetto all'edizione scorsa e l'edizione scorsa rispetto a quella prima e che la gente sia soddisfatta e che i partner siano contenti della loro partecipazione quindi diciamo degli obiettivi molto semplici paolo un'altra domanda penso molto importante allora ci sono aziende amici che supportano il tuo evento come partner appunto allora noi pochi giorni fa abbiamo ufficializzato una locandina ufficiale abbiamo ufficializzato scusate il gioco di parole dove campeggiano appunto i loghi dei partner tecnici allora intanto a re davidson italia che di solito non supporta eventi che non siano hog hanno creduto già questa terza edizione nel nostro appuntamento questo è un motivo di vero orgoglio poi abbiamo il motorbike expo quindi la fiera la kermesse veronese parts europe drag specialties quindi il distributore tedesco abbiamo andreani gruppe olins che sono da sempre insomma io sono un olinsista convinto anch'io non di molle gialle e serbatoio oro e poi abbiamo questi sono i main partner poi abbiamo aziende come rebuffini che ha sempre creduto quindi è l'unico partner che ha creduto in noi fin dalla prima edizione la prima edizione mezzeller per le gomme quindi anche quest'anno il meeting sarà grommato mezzeller fabrizio cauduro quello di 17 helmet che ma anche max conosce molto bene certo abbiamo wild dog abbiamo fg racing e ionic quindi parti ricavate dal pieno forcelle e cerchi poi abbiamo un eccellenza della gioielleria custom italiana che è jimmy creation che la bottega dell'argento abbiamo in rappresentanza dei caschi bs exhaust quindi termina finali e impianti completi su richiesta abbiamo western bull sempre del settore pelle selle cuoio e abbiamo una nuova realtà che è reparto sportivo che insomma opera nel veronese un'iniziativa molto molto interessante che mi invito a seguire e poi abbiamo uno dei verniciatori più noti del milanese carrozziere verniciatore creativo che andrea marinoni custom family milano che sarà colui che realizzerà tutte le targhe premio del contest perché avremo anche poi un contest volete poi ne parliamo e poi abbiamo degli amici quindi non voluto mettere sulla locandina che sono mattia di harley sposter italy la simona di di del gruppo facebook poster italia il gruppo degli sposteristi lombardi gli amici di max ma anche i miei amici di neuro tv e poi avremo davide trotta che è il videomaker è quello che ci fa tutti i trailer e video del nostro evento davvero davvero bravissimo quando sono i tecnici c'è chi c'è chi contribuisce con una quota c'è chi contribuisce con dei servizi così davvero interessante non andiamo alle maldive e se è chiaro e sappiamo i costi li usiamo per investire sullo sport e miti ok paolo allora vediamo subito il spot pubblicitario dello sport meeting e poi torniamo qui per i saluti paolo un'altra domanda importantissima quali testate giornalistiche o appunto fotografi ci sono al tuo sport meeting allora ovviamente ci saranno tantissimi oltre a testate giornalistiche vere e proprie tantissimi rappresentanti del web quindi chiamamoli influencer blogger che ma come come preferite tantissimi fotografi come alessandra mori come uber laurent come ernesto dottor arley come corrado chiaretta come i ragazzi tv come fotogio atelier e l'anno scorso hanno dato che erano presenti e alcuni hanno dato spazio riviste come lo ride ferro fuel motociclismo e in sella freeway france ne dimentico sicuramente pre magazine che una bellissima rivista nata nel bresciano questo insomma c'è parecchia parecchi rappresentanti insomma del mondo della carta stampata e non bello bello è una cosa molto importante che le riviste o comunque chi si occupa di informazione trovino della ciccia su questo evento dove poter venire oltretutto mi hai appena detto che c'è anche ernesto che è un mio caro amico e l'ho sempre stimato è una bellissima persona dr arley e senti paolo so anche che collabori con un importante magazine che hai già annunciato durante questa lista di testate che saranno presenti allo sporti meeting dici chi è e qual è il tuo ruolo per all'interno scusa di questo magazine allora io compro seguo compravo freeway ho iniziato a leggere con particolare bramosia lo ride e nel tempo è stato diciamo una una bella relazione con loro nel senso che loro fin da fin da subito hanno creduto nel nostro nel due cilindri quindi c'è un dedicato spazio ancora il primo run che facciamo nel 2012 se non sbaglio e nel tempo sono riuscito a ritagliare lo spazio quindi da un anno questa parte c'è una rubrica che si chiama area 57 sullo ride in cui posso scegliere dei personaggi delle moto da pubblicare e vi è anche una news intregata questo questo mese ad esempio c'è il nostro videomaker che è davide trotta che ha un bellissimo xr 1002 x quindi è una ringrazio insomma la giuseppe danielo e aldo per questa 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 possibilità c'è da dire una cosa che la presenza di tanti fotografi e riviste anche giustificata dal fatto che noi abbiamo una bellissima oltre a un parcheggio pieno di sposte abbiamo anche tutta un'area dedicata a collezionisti concessionarie officine specializzate perché noi abbiamo abbiamo fatto una scelta precisa cioè al meeting ci sono soltanto gli stand dei partner tecnici quindi ci sarà lo stand di adreani lo stand di mezzeller lo stand di 17 m di wild dog west and bull eccetera eccetera invece le officine possono partecipare ovviamente gratuitamente portando una due o tre sposter quindi non devono non vengono lì con lo stand perché vogliamo che anche tra di loro possano ecco possano si può dire parlare discutere insomma è una bellissima idea anche perché ripetiamo ancora una volta è dedicato alle sposter quindi è giusto che altrimenti sarebbe uno dei tanti raduni o comunque eventi che già esistono senti ultima domanda e poi ci salutiamo cosa ne pensi visto che stavamo parlando di questo possibile svolgimento che ci auguriamo tutti dello sporti meeting cosa ne pensi invece del resto degli eventi che sono stati organizzati per il 2020 quindi adesso di molto importante in europa ci rimane come dicevamo prima il fucker cosa ne pensi cosa accadrà le tue idee e soprattutto diciamo sono eventi di un'altra portata quindi dici il tuo pensiero diciamo su sì sulla situazione su quello che secondo te andrà andrà ad accadere allora apro una piccola parentesi un grande rispetto e seguo molto gli appuntamenti le fiere e gli eventi di settore quindi l'anno scorso ho collaborato con andy per il chopper city che è un evento che si teneva nella provincia di bergamo e due cilindri sulla locandina abbiamo fatto un primo speciale poi ho la fortuna di avere stima da parte di corrado del rombo di tuono quindi anche corrado è sulla locandina del nostro evento e avrà un lavoro dedicato abbiamo avuto la fortuna di avere uno stand al motorbike expo quest'anno per la prima volta che per me era un punto di un traguardo quindi grazie mille alla paola somma e per quanto riguarda il fucker che è un evento che amo anche se spesso è uguale a se stesso nel senso nella tipologia di formula è forse l'evento che più amo ne ho fatti 10 12 quindi se quest'anno si farà non mancherò dire che si possa fare proprio per il discorso di prima proprio per la portata dell'evento che la vedo molto 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 non lo so crocio le dita ma la vedo dura insomma ecco speriamo che tutti arrivino a portare in scena gli eventi già dai primi giorni di giugno quindi a proposito importantissimo la data dello sport meeting la data è il 20 giugno vabbè al contrario comunque il 20 giugno 2020 quindi come di consueto noi ormai facciamo sempre la terza settimana di giugno qualcuno mi scriveva ma paolo perché non lo spostate a settembre no o lo facciamo a giugno o lo facciamo l'anno prossimo paolo diamo un'informazione a tutti quelli che ci sono già quelli che ti conoscono ma ci sono anche quelli che magari ti hanno conosciuto oggi insieme a noi quindi dove possono trovarti nei social dai un po qualche indicazione delle tue pagine allora prima di tutto due cilindri è un blog quindi basta digitare su google due cilindri blog e esce appunto il sito il blog e poi ovviamente le pagine social due cilindri su facebook e su instagram due cilindri su quindi seguitelo tutti che è bravissimo e appunto va questo evento dove vi vogliamo trovare tutti lì eh bisogna farlo a giugno e vi aspettiamo tutti lì grazie sindy paolo senti io ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci hai dedicato e ci teniamo in contatto assolutamente fino a giugno vogliamo sapere sempre novità io condividerò sia nel mio sito che nelle mie pagine tutti gli aggiornamenti che farai quindi ci tengo tantissimo a tenere tutte le persone che sono interessate a questo evento informate hai qualcos'altro da aggiungere sì io voglio tanto voglio ringraziare te voglio ringraziare sindy sappi che io ti seguo grazie per lo spazio che ci hai voluto dare ed è stato un un privilegio averti potuto avervi potuto conoscere di persona tutto mio paolo penso anche da parte di sindy ringrazio anche sindy che è sempre in collegamento pronta da padua per supportarmi visto che in questa avventura ho scelto lei grazie mille paolo buona buona grazie grazie mille ciao paolo grazie ciao grazie